Sì, ho visto che guardai la madonna, e quella lì mi sa che mezza è andata, mezza no, ma mezza sì. Sei imbizzarrito, sei imbizzarrito, dai, dai imbizzarrito, fai come hai fatto spanti, uno, parte manettone, salti via il tronco di bestia, senza prendere il paolo per cortesia. Vabbè, adesso provo un po' lì, ma non riesco a metterla in fatto, non c'è neanche gusto, vedi, vedere cosa ha messo giù, dai, dai che la fai uguale, su, dai, se vai in moto prendi il vento e ti raffredda, divento peggio quando c'è caldo. È giusto o no? C'è caldo, se vai in moto prendi il vento e diventi freddo, scusa eh. Se c'è caldo faccio peggio. Vai, accendi, accendi, è accesa, vai. Dov'è, com'è, io non ho capito un cazzo. Già questo non mi piace. Qua immagino che è. C'è troppi birilli, cacchio. Scendi. Senza cadere. Si allarga. Che non puoi allargare. Ah, fino alla, allora va bene. No, pensavo già a star dentro io. Aspetta eh, sì, fai il traversone. Sali. Mmm, bello. Traversone qua. Ok. Scendi. Scavalchi tutte le moto. Giri largo. Ok. Sasso, salita. Sasso, eh. Salita sul tronco. Ecco perché prima sparchi l'ha fatto. Proprio quello devono fare. Proprio quello lì. Oh, l'unico sasso dove sei seduto? Luigi, su quello. Preciso. Su quello ti puoi sedere, che è bello fresco. Eh, ascoltami. L'unico sasso che ti sei seduto era quello in zona. Eh, eh. Eh, l'avevo già vista io quella lì, che era strana. Guarda che è stretta quella lì, eh. Guarda che quella lì è stretta, eh. Quella furbetta lì. Occhio. E questa è la sua socia? Eh, eh, eh. Mettine giù un altro qua, Luigi. Mettine giù uno lì. bravo. Bravo. Bravo, così almeno lo vediamo. Vai, 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 accendi e vai. Dai, dai, prova. Togli la marcia, se no non parte. Dai, che provi questa. Dai, frega, ma che cazzo te ne frega. Togli la marcia. Se no non lo vanno. Prova, prova. Ma che me li casca? Sì, sì. Eh, ma devo farci solo mano sulla pezzetta. Ma. Vai e basta. Ascolta, ce avrà il Montesa, no? Scusami, eh. Ma non è giusto. Ma non è giusto. Ah. Ah. Ah.